poco meno di 70 aziende dall'oggettistica all'enogastronomia passando per l'abbigliamento i prodotti biologici o i componenti d'arredo per quasi mille metri quadrati di superficie espositiva sono alcuni dei numeri e delle caratteristiche di arts and craft la fiera dell'artigianato di qualità che torna a Pistoia dopo otto anni la manifestazione che per molto tempo era stato appunto di riferimento per le aziende del territorio ed uno dei momenti fissi nel calendario degli eventi cittadini è risolta grazie alla cna e alla conf artigianato che hanno unito le proprie forze attorno a questo progetto l'appuntamento è dal 24 al 27 ottobre alla cattedrale dell'ex breda di Pistoia sicuramente l'artigianato ce la può fare non magari come singolo territorio ma allargandosi anche alle realtà vicine infatti abbiamo coinvolto la realtà di Prato la realtà di Lucca. Sarà una nuova arts and craft non sarà sarà soltanto di eccellenze sarà soltanto di ciò che di meglio le aziende del nostro territorio riusciranno a fare e riescono a fare. Sarà interessante anche vedere come i giovani imprenditori che hanno uno spazio dedicato per proprio per le loro creazioni hanno organizzato questo spazio che si sono progettati da soli e sarà appunto è una scommessa però noi ci puntiamo molto e siamo molto fiduciosi. L'arts and craft edizione zero come è stata definita nella conferenza stampa di presentazione per sottolineare che quello che sta per realizzarsi sarà un nuovo inizio è supportato dalla camera di commercio che investirà 45 mila euro provincia di Pistoia ed altri partner. Siamo riusciti a contaminare anche altri settori tipo il credito che oggi ci è arrivata la notizia che c'è lo sponsor anche dalle banche di credito operativo quindi siamo riusciti con la nostra vicinanza con la nostra sinergia a contaminare anche altri attori. Come leggete il ritorno di questo evento? Sicuramente sì io lo leggo in maniera molto positiva la camera di commercio si è fatta interprete dell'esigenza da parte delle associazioni dell'artigianato di avere un momento e un luogo nel quale le aziende pistoiesi potessero esporre le loro produzioni. Ecco che quindi torna l'arts e craft in quasi mille metri quadri di spazi con 67 aziende espositrici quindi una grande opportunità per la nostra economia.